EICMA 2024 è iniziato! Passate a trovarci allo Stanley Quimoli! Ciao, un saluto da Insta360 qui per EICMA! Ciao ragazzi, oggi siamo a EICMA 2024, primo giorno. Un saluto dallo Stem Suzuki, io sono Alessia, vi invito a venire a trovarmi al Padiglione 22. Allora, venite a trovarci presso lo Stem di 34 Tavis. Ciao! Ciao, un saluto dallo Stem HGT. Vi aspetto, Padiglione 22, Stem e 48. Un saluto da me e Stitch dal Stem HGT ad EICMA. Ciao a tutti, venite pure a trovarmi allo Stem CMJ, Padiglione 22, Stem G43. Un saluto da EICMA, VD40 e Florina. Un saluto! 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 Un saluto dal mio ultimo anno di ECMA, scherzato, vorrei serlo, ciao da ECMA, un saluto da ECMA, potete trovarmi qui al Padiglione 22 allo stand E48. Ciao, siamo Lalla e Francesca, ricordatevi di passare allo stand E48. Un saluto dall'ultimo anno di ECMA, nostra, scusami, volevo dire, scusami. EICMA 2024 Grazie 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 Grazie